Con questo tutorial analizziamo problemi reali risolubili con equazioni di primo grado. Vediamo questo esempio. Ho deciso di mettermi in forma e la prossima settimana, per 5 giorni di seguito, allungherò la passeggiata mattutina di 800 metri ogni giorno. Mi rendo conto che il numero di chilometri percorsi i primi 3 giorni è uguale al numero di chilometri percorsi negli altri 2 giorni. Quanti chilometri era lunga la passeggiata del primo giorno? Indico con x il numero di chilometri percorsi il primo giorno. Allora, il primo giorno percorrerò x chilometri. Il secondo giorno percorrerò il numero di chilometri percorsi il giorno precedente più altri 800 metri. Allora scriverò x più 0,8 chilometri. Il terzo giorno percorrerò sempre x chilometri iniziali più 1,6 chilometri. Poi il quarto giorno percorrerò x chilometri più 2,4 chilometri e il quinto giorno x chilometri più 3,2 chilometri. Il problema mi dice che i chilometri percorsi nei primi tre giorni sono uguali ai chilometri percorsi nel quarto e nel quinto giorno. Allora vado a scrivere 3x più 2,4 che si ottiene facendo 0,8 più 1,6 deve essere uguale a 2x più 5,6 chilometri che si ottiene facendo 2,4 più 3,2. Risolvendo questa equazione si ottiene che x è uguale a 3,2 chilometri. Marco e Lucia hanno 10 e 25 anni. Tra quanti anni l'età di Lucia risulterà doppia rispetto a quella di Marco? Allora sappiamo che Marco ha 10 anni, mentre Lucia ha 25 anni. Tra quanti anni? Allora vuol dire che c'è un tempo t che scorre. Allora passato un tempo t l'età di Marco sarà 10 più t, mentre l'età di Lucia sarà 25 più t. Ora, tra quanti anni l'età di Lucia, quindi questa quantità, risulterà doppia rispetto a quella di Marco? Allora devo andare a scrivere 25 più t deve essere uguale a 2 che moltiplica 10 più t. Risolvendo questa equazione si ottiene t uguale a 5, cioè vuol dire che devono passare 5 anni. In un negozio due maglie costano complessivamente 180 euro. La commessa mi dice se le compra tutte e due le farò il 20% sulla maglia più costosa ed il 10% sull'altra e spenderà solo 152 euro. Quanto costano singolarmente le due maglie? Allora, sappiamo che complessivamente queste due maglie costano 180 euro. Allora indico con x il prezzo di una maglia, allora l'altra maglia sarà 180 euro meno x. Allora, la commessa mi dice che se le compro tutte e due mi farà il 20% di sconto sulla maglia più costosa. Supponiamo che sia x la maglia più costosa, allora se mi farà il 20% di sconto, la andrò a pagare x meno 20% x. E questo relativo alla maglia più costosa. E mi farà un altro 10% di sconto sull'altra maglia. Quindi mi farà un 10% di sconto su quest'altra che ho chiamato 180 meno x. Allora vuol dire che andrò a scrivere 180 meno x meno il 10% di 180 meno x. Complessivamente vado a spendere in questa maniera 152 euro uguale 152. Se vado a risolvere ottengo x uguale 100. Vuol dire che allora la maglia più costosa costa 100 euro e la maglia meno costosa costerà 80 euro. Due operai per realizzare un impianto elettrico impiegano 12 ore. Se lavorassero in tre, quanto tempo impiegherebbero? Allora, da questa affermazione possiamo andare a dedurre che un operaio ha un ritmo di lavoro pari a L ventiquattresimi. Cioè vuol dire che se un operaio lavora da solo impiegherebbe 24 ore per eseguire tutto l'impianto elettrico. Se lavorasse per 24 ore, quindi vado a prendere questa quantità, il suo ritmo di lavoro, e la moltiplico per il tempo di lavoro 24, otterrei proprio il lavoro stesso, cioè il lavoro eseguito. Sappiamo che adesso abbiamo tre operai. Supponiamo che questi tre operai abbiano lo stesso ritmo di lavoro, cioè pari a L ventiquattresimi. Lavorando in tre vado a scrivere 3 per un certo tempo che non conosco x. E sappiamo che lavorando in tre per un certo tempo x devono eseguire il lavoro completo, cioè uguale ad L. Ora, semplifico 3 e 24 ed ottengo L ottavi per x uguale ad L. Moltiplico ambe membri per 8 su L da una parte e dall'altra, semplificando, si ottiene x uguale a 8 ore. Quindi vuol dire che se abbiamo tre operai che lavorano insieme, impiegherebbero per terminare il lavoro in 8 ore. 10 gatti mangiano 100 topi in 100 minuti. Quanti gatti sono in grado di mangiare 100 topi in 20 minuti? Allora sappiamo che 10 gatti mangiano 100 topi in 100 minuti. Allora vuol dire che un singolo gatto mangerà un decimo del totale dei topi, cioè mangerà 10 topi in 100 minuti. Ora, un gatto mangerà in un minuto, quindi un decimo di topo, cioè perché se sono 10 topi in 100 minuti, in un minuto un gatto mangerà un decimo di topo a minuto. Supponiamo che tutti i gatti abbiano questo ritmo di lavoro, cioè quello di mangiare un decimo di topo a minuto. Questo ritmo di lavoro andrà avanti per 20 minuti, quindi moltiplico per 20 minuti. E complessivamente questo lavoro verrà eseguito da un numero di gatti che dobbiamo determinare, e andremo ad indicarli con x gatti. Complessivamente, quindi lavorando con un ritmo di un decimo di topo a minuto per 20 minuti, e questo lavoro eseguito da x gatti, complessivamente saranno mangiati 100 topi. Quindi, 100 topi. Ora, se ci facciamo un po' di conti, e andiamo a semplificare le varie unità di misura, otteniamo che 2x gatti è uguale a 100, cioè x uguale a 50 gatti. 162 alunni di una scuola vanno in gita, e per il trasporto arrivano 3 autobus di capienze diverse. Il secondo autobus ha 5 posti in più del primo, ed il terzo ha 2 posti in più del secondo. La parofa di matematica dice, siamo fortunati, tutti gli alunni hanno un posto a sedere e nessun posto è rimasto vuoto. Qual è la capienza dei 3 autobus? Allora, indichiamo con x la capienza del primo autobus. Sappiamo che il secondo autobus ha 5 posti in più del primo, allora vuol dire che x più 5 sarà la capienza totale del secondo autobus. Poi, sappiamo che il terzo ha 2 posti in più del secondo, allora vuol dire che a questa quantità aggiungiamo 2 posti, ed otteniamo x più 7, e questa è la capienza del terzo autobus. Siccome che il testo dice che nessun posto è rimasto vuoto, allora sappiamo che se sommo questa quantità con questa quantità con questa quantità, riusciamo a dire che complessivamente tutti i 162 alunni hanno un posto, e allora vuol dire che se vado a scrivere x più x più 5 più x più 7 deve essere uguale a 162 posti in totali. Risolvendo, si ottiene che x è uguale a 50, allora la capienza del primo autobus è 50 posti, la seconda invece è 55 e la terza è 57. In una scuola il preside afferma dopo gli esami di maturità il numero di studenti si ridurrà di 3 ventesimi e a settembre si scriveranno alle classi prime un numero di studenti pari al 20% del totale degli studenti di giugno. In questo modo avremo un aumento di 24 studenti rispetto ad un anno fa. Quanti studenti erano presenti inizialmente in quella scuola? Allora, indichiamo con x il numero di studenti di questa scuola. Sappiamo che dopo gli esami di maturità ci sarà una riduzione di 3 ventesimi degli studenti totali, quindi vado a scrivere meno 3 ventesimi x. Poi sappiamo che a settembre si scriveranno alle classi prime un numero di studenti che è pari al 20% del totale degli studenti di giugno. Allora vuol dire che a giugno sono questi gli studenti e andremo a fare più 20% di x meno 3 ventesimi x. E sappiamo che a questo punto rispetto ad un anno fa c'è stato un aumento di 24 studenti. Allora vuol dire che questa quantità deve essere uguale a x più 24. Andando a risolvere si ottiene che x è uguale a 1200 studenti. In una classe metà degli allevi preferisce la matematica, un quarto preferisce l'italiano e un settimo predilige l'inglese, mentre tre alunni preferiscono attività sportive. Determine il numero degli alunni. Allora, indichiamo con x il numero totale degli alunni. Allora sappiamo che la metà preferisce matematica, allora vado a scrivere x mezzi, più un quarto preferisce l'italiano, x quarti, e poi un settimo predilige l'inglese, più x settimi, e poi abbiamo tre alunni che preferiscono attività sportive, più tre. Complessivamente deve essere uguale al totale della classe, cioè x. Risolvendo si ottiene x uguale 28. In uno spettacolo di beneficenza, un adulto paga 8 euro in più rispetto ad un bambino. Sai che 14 bambini e 22 adulti pagano 80 euro in meno rispetto a 24 bambini e 28 adulti. Qual è il costo del biglietto di un bambino? Allora, indichiamo con x il costo del biglietto di un bambino. Allora, quello di un adulto sarà x più 8. Ora, sappiamo che abbiamo 14 bambini e 22 adulti. Allora, se vado a fare 14 bambini per x più 22 adulti per x più 8, andiamo a determinare il costo complessivo di 14 bambini e 22 adulti. E questa quantità è 80 euro in meno al costo di 24 bambini e 28 adulti. Cioè 24x più 28x più 8 meno 80. Risolvendo, si ottiene che x è uguale a 2 euro. Un'azienda informatica ha trasferito 22 tera di dati in 8 hard disk portatili. Quindi, sapendo che gli hard disk hanno una capienza da 4 e da 2 tera, calcola quanti sono gli hard disk da 4 e quelli da 2 tera. Allora, indico con x il numero di hard disk da 4 tera, mentre con 8 meno x gli hard disk da 2 tera. Ora, se moltiplico la capienza degli hard disk di 4 tera per il loro numero, quindi 4 per x più, moltiplico la capienza degli hard disk da 2 tera per il loro numero, quindi 2 per 8 meno x, complessivamente devo ottenere 22 tera di dati, cioè uguale a 22. Risolvendo questa equazione si ottiene che x è uguale a 3. Allora vuol dire che gli hard disk da 4 tera sono 3 e quelli da 2 tera sono 5. E con questo esempio termino questo tutorial sui problemi reali risolubili con equazioni di primo grado.